Hola, io sono Marcus Crone, signore e signori bentornati nella bellissima Seftech, signori, abbiamo sbloccato nella precedente puntata la nuova era, non è l'era del ferro, del piombo e del coso, e abbiamo trovato il copper, e abbiamo trovato il tin, e ancora non ho trovato il coal, però mi sono permesso di allargare la zona, sistemare un pochino qui, mettere dei cartelli che sarebbero editabili, se dietro non ci fosse la cosa, però dobbiamo anche cliccarci così, guys, niente da fare, mi si apre la cesta, va bene? Ho spostato qui delle cose, questo qui ve lo devo far vedere, ho fatto delle shelf con cui mettiamo gli strumenti che ci servono, ad esempio ho scoperto che posso fare la farina di grano tenero, oppela, fatemi prendere subitissimamente il ciccio ciccio, dov'è il ciccio ciccio? Pronto? Ecco, inizio la puntata e già ho perso un coso importante Scusate, scusate ragazzi, qui non c'è, qui non c'è, marcus scroller non trova le cose, puntata 750, eccolo qui, eccolo qua, quindi se io faccio così, così e così, e poi me lo appoggio qua, me lo sto appoggiando, ci metto uno di sale, della farina, yes, e guardate un po', tadadadadadada, tadadadadada, tadadadadada, mi da, tra tre anni, oh yes vi da 3 di dog che è la farina cioè nel senso questa è la farina e questo sarà l'impasto non lo so e signori quindi abbiamo il pane molto 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 più facile da fare di prima ho spostato di qua la cesta del cibo ho fatto un altro di questi cosi che vi ricordate quello precedente l'abbiamo usato per fare questo adesso ci si è sbloccato come si chiama quel coso vabbè si chiama hopper e lo troviamo ci si è sbloccato un crafting differente fatto con le full maze quindi non dobbiamo più sprecarli very good un altro però ho preferito metterlo qui nel clay clint perché ci ho messo un sacco di legna e con un sacco di legna abbiamo ottenuto un sacco di low grade church hall e con questo ciccio ciccio signori abbiamo fatto un bel po' di church hallissimo con cui sto smeltando il mio amico hopper il team già l'ho fatto quasi tutto guys un sacco di cose è bellissimo ah tra l'altro un utilizzo saggio dei totem il bufalo ti da haste 3 quindi ho costruito un bufalo un bufalo un bufalo laggiù dove c'è la nostra miniera di copper tra l'altro ce n'è un altro laggiù quello che volevo farvi vedere oggi no sicuramente andiamo a fare l'alloy clean che ci serve alloy eccolo no ho una piccola riminescenza ma non mi ricordo 8 ah non è clean è kiln ok d'accordo e ci serve la sandstone attenzione e la brick la sandstone come la faccio a fare la sandstone con classico vanilla oddio sento un mostro oh sento un mostro 3 di 3 di ah no ecco ho buttato tutta qua dentro vediamo un po' se posso farla eh perfetto yes very good e i brick accidenti accidentaccio di brick ce ne ho pochi vediamo un po' quanta clay ah il signor barcus cron a disposizione 10 così così poca mio caro eh volevo fare una y non ce l'ho da nessuna parte merda e me ne servono 8 questo qui questo crafting me ne da 2 quindi vi serve 4 di questi quindi vi servono 8 merda ragazzi ce ne ho pochissimi ce ne ho davvero davvero pochi usiamo il charco alla si ma perché no ma perché interessante molto interessante cosa cazzo è sta roba ah no si ah ok 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 no mi stavo cagando ho detto no oddio voglio volevo fare questa cosa e poi già non ci riesco ok perfetto questo è automatico funziona in automatico qua sotto c'è c'è un mostro qua sotto c'è un mostro io odio i rumori ho fatto questa per errore si fa con 4 stick in una griglia 9x9 non ho idea di che cacchio serva però la posso raccogliere ho scoperto che posso raccogliere quasi tutto davvero lo sapevo sarebbe stato molto più utile invece di smadonnare come un maiale per tutto questo tempo ma va d'accordo va d'accordo marcoscroda va d'accordo quindi ce ne servono 4 di sandstone no che dico 4 ce ne servono what ce ne servono 8 ogni tanto sparisce hai visto cioè ci lascia a peso d'accordo paurissima e mentre aspettiamo di là io voglio farvi vedere l'aqueduct che purtroppo guys proprio brancolando nel buio tra l'altro si può fare anche con la stone sono andato a vedere di che si tratta ed è molto molto interessante come fai a fare i blocchi di clay ecco il motivo per cui ce n'ho poco perché basta che rimetti 4 dentro la pressa ah ho fatto delle piccole implementazioni tipo i cancelletti queste cose ora cioè i totem non mi servono però così quando magari ci spostiamo non lo so la vedo un po' più ordinata così d'accordo ed adesso ma porca scusate ragazzi ecco non li sopporto non li sopporto davvero allora vediamo se ha finito 7 uh ma ce li ho ce ne avevo 2 barco scron perché ok vabbè sono molto tristo e solitario vediamo un po' 2 4 6 8 signori ce lo abbiamo e lo puttizziamo qui va bene yes vai ragliatela è vero o no ci serve l'hammer ci serve l'hammer guys ok con il copper meno male lo possiamo fare perché altrimenti se ne è stato molto ma molto ma molto ma molto sad mi ricordo più o meno dove ho messo le cose questa è una cosa buona tranne tipo le stringhe non so dove stanno ah no sul serio le stringhe dai ce ne avevo tantissimissime ecco fatto che cazzo che stanno a fare qua non c'è senso che stiano qui però va bene lo stesso ok signori abbiamo il martello hey perfetto il clean spero che vada bene anche col charchoal noi che facciamo andiamo a prendere un po' di charchoal giusto per poi andiamo a prendere il nostro amico prendiamo 10 di tin e 10 di copper e lo andiamo a puttizzare qui dentro what the fuck is this oh yes e signori fra pochissimo avremo il bronzo ma come andiamo eh da cavernicoli che vestono di pelle di merda al bronzo che spettacolo allora per quanto riguarda invece ah ho fatto scusate se è la prima volta che faccio mi porto avanti con delle cose questi li ho fatti involontariamente giuro totalmente giuro ho fatto una oe perdonatevi ho fatto una oe e e niente possiamo possiamo oare i campi di grano ma che ne sai tu di un campo di grano che ne so io vabbè ho scoperto guardando la nail che io me la spulcio la situation ragazzi cazzo crafty cos'è interessante d'accordo va bene che abbiamo la possibilità di fare degli storage upgrade che dovrebbero implementarci il nostro backpack che come potete vedere è pieno fino al midollo e io voglio assolutamente farmelo il prima possibile e quindi andiamo a cercare della pellele e voilà andiamo a cercare dei disti ehi ah ok che paura quando fa così quando fa così io mi cago perché dico adesso voglio andare a fare questo e invece no ti attacchi al cacchiettini forte però su questa cosa devo dire che questo pack è fatto davvero davvero bene oltre a delle piccole disattenzioni da parte mia posso mi servono ah no mi serve questo uno ok poi devo fare questo e poi devo fare con un'altra pelle e della stone che ho mamma mia mamma mia ma come andiamo come andiamo visto che ce ne ho poca la buttiamo qua dentro e via andiamo a fare l'upgrade questo qua e posso mettere così vai ragnatela oh no mario è di tier 0 e ha bisogno di un wooden next upgrade is wooden c'è scritto quindi io ho fatto un cacchiettotuno guys ok ti prego speriamo che minchia quanta pelle consumi ok d'accordo quindi adesso dovrei poter fare così yes vediamo mario come diventa bello una linea in più quindi a ricordi logica una double chest signori una double chest e ci possiamo mettere dentro una farina del mio sacco e tutto quanto bene 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 sono molto molto felix molto molto felix allora vi ricordate che avevamo parlato dei channel e degli acquedotti eh non ce ne vi poi niente perché abbiamo fatto il brozzo oh mio dio la proporzione è totalmente sbagliata mio caro marcus cron ah è vero ti serve uno di questi ma tanto di quest'altro accidenti accidenti abbiamo il bronzo regà scusate abbiamo lo sbro uh eh what magia what la magia ma anche no cioè nel senso davvero la la magia quindi è tipo spore regà sto gioco nel senso inizi che crafti coi bastoni quella è la fase cellula poi arrivi la fase tribù che c'è queste così le qui un po' di magia totemica adesso siamo arrivati alla stregoneria praticamente fra un po' che facciamo eh eh bruciamo tutto non lo so va bene io mi adatto devo dire che malgrado la prima puntata in cui abbia cioè in cui è uscito a fare sta cosa mi sia stato un pochino mi ha dato un pochino al cazzo il fatto di usare la magia se il pack è fatto talmente tanto bene come tutto il resto anche la parte della magia sarà fatta bene e bilanciata quindi l'ottimismo è il profumo della vita Gianni questo è il nuovo posto di Erminio Erminio come stai eh guarda che sei bello vieni qui vieni qui Erminio non guardarmi così che hai fatto qualcosa hai fatto la cacca bene signori dopo la merda di Erminio ah la storia ah ci abbiamo anche queste qui da effettivamente ora che ci penso da pipottare ma quanto è carino quanto è divertente è troppo divertente quasi quasi li metto no me li scordo instant me li scordo ma che dico instant istantissimo con il copper ci si aprono delle porter possiamo fare appunto la blood altar d'accordo l'elfire forge che ah accidenti il ritual charm della beast craft con il non so davvero che cazzo di che cazzo si tratti vabbè queste qui le cose le vedremo successivamente possiamo cicciottarle possiamo cicciottarle e poi possiamo fare la full plate di bronzo che ci da 2 5 9 quindi in totale e mi manca un pezzo scusami pronto ah eccola qua 13 contro ragazzi 1 4 6 7 13 contro 7 e beh io direi che è il caso di buttarci dentro la nostra senti io faccio così tagliamo la testa al toro al torello tanto sono andato una seconda volta il tin è sempre lo stesso però sono andato una seconda volta a prendere guardate qua dentro quanto ce n'è guardate qua dentro a prendere il nostro amico copper quindi non ci dovremmo avere problemi vai vai tranquillo allora mentre questo qui si cicciotta io direi di farvi vedere l'acquedotto perché secondo me è una meccanica maravigliosa l'acquedotto però ah no vuole la stone è vero è vero è vero vuole la stone quindi siamo abbastanza felix questo qui mi permetto di temporeggiare per fare altri lingottini di copper da buttare qua dentro ah ma direi che ci siamo fermate le rotative fermi tutti fermate il mondo voglio scendere ma che uno alla volta madonna santissimo carmel no aspetta 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 c'ho un hopper dimmi dimmi che funzioni dimmi che funzioni ti prego si funziona sono un genio della lampada incompreso vediamo oh si grazie jesus grazie no regà sarebbe oh ma mi dà l'esperienza ah che carina sarebbe stato proibitivo metterne uno alla volta soprattutto per il sottoscritto che è un po' una chiavica che spettacolo 16 se dice ma non se fa guys bam bam e ce ne rimane una soltanto quindi 2 3 4 5 6 7 8 e 9 dovremmo esserci prendi vele ciccio prendi vele ciccio quindi facciamo la testa o pelà e le pepette mamma mia che precisione io direi di sallustrare questa armatura e diventare degli uomini in full plate di bronzo che brutta che sei sembra una camicia potete che abbia pure le texture visto che ci stavi allora voglio vedere se c'è uno stand stand ma non c'è è una tecnologia troppo avanzata signori ancora non l'abbiamo ottenuta va bene il mio piccone è andato e il mio martello è andato pensavo di averne fatte due mi sbagliavo signori mi sbagliavo buttiamo dentro queste cose e andiamo a vedere come si combinano perfettamente queste tre mod e non c'entrano un cazzo di niente allora punto primo l'acqueduct ritorniamo su lui acqueduct poi facciamo altre cosine con il copper però adesso volevo volevo rafforzarmi perché probabilmente usciranno dei mostri più imporcianci ce l'ho la stone sento dei rumori brutti è il cavallo o ci sono dei lupi no ci sono dei lupi direwolf guarda come mi si vuole mangiare figlio della merda mi volevi mangiare i cosi eh sto bastardo maledetto cioè non si può stare tranquilli in secondo scusami eh anche un contorno oh che succede ah ok giusto quando entro nell'aria mi dai buff vegetali mi servirebbe mangiare dei vegetali che possiamo le carote il beta carotere fa bene alla pelle agli occhi e ai capelli allora come funziona il nostro amico acquedutto ve lo passo a spiegare ma prima vorrei una palla eh no ce l'ho la palla perfetto come siamo messi la notte è ancora giovane vabbè fa niente allora voi sapete che non c'è il cioè l'acqua non si moltiplica ebbene sì c'è questo questa problematica grande ma grande 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 ora e non abbiamo la possibilità neanche di fare i secchielli non abbiamo la possibilità di fare un cazzo di niente per dire non possiamo spostare l'acqua e ovviamente come ben sapete l'acqua ha sette di raggio non me lo ricordo dal source block c'ha uno due tre quattro cinque sei e poi sì sette più o meno dai ok quindi come faccio io ad avvicinare l'acqua a me con gli aqueduct se non ho capito male se non ho capito male adesso li faccio vedenzo da qui cazzo un posto un pochino più agevole lo volevo beccare pure io no eh scusate scusate salgo salgo su di uno eccoci qua normalmente l'acqua si ferma oppela oppela facciamo così e dovrebbe fermarsi oh eccola qua si ferma qua ora se non ho capito male questo acquedotto dovrebbe permettervi di far andare l'acqua oh vedete un pochino più avanti e ogni volta praticamente l'acquedotto ci permette di aumentare la la l'acqua guardate dovrebbe dovrebbe eccolo avete visto quindi io me la posso portare fino dove voglio la cosa che secondo le mie scarse conoscenze di questa conoscenze di questa mod e ve lo dico mi vedrete failare tantissimissimo ve lo dico ve lo dico è che con questa forse dovremmo poter fare una cosina interessante oh yes vedete vedete questo blocco in realtà il blocco madre è qui ma l'acquedotto lo continuo a portare e fino a dove arriva io posso prenderlo col fluid bubbler cioè praticamente questo è un finto source block ed è fichissimo perché significa che ci possiamo portare l'acqua in casa purtroppo purtroppo non può salire ragazzi non può salire non la posso far salire per adesso serve delle cose meccaniche quindi forza lavoro che adesso non abbiamo disponibile però forse c'è la soluzione a questi piccoli problemi il problema per questa soluzione è che ci serve tanta 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 clay quindi mi sa che me la devo andare aha eccola là tanta clay mi sa che mi devo andare un attimo a fare un bagnetto ci vediamo a frappè perché poi sarà una no sembra un pesce morto è brutto è perché poi ci mettiamo a fare sento un ragno queste cosine e vedrete che avremo l'acqua dentro casa in una maniera strana ma ce l'avremo poi se riuscissimo a trovare una fonte di acqua più alta tipo che ne so laggiù potremmo portarcela direttamente come gli antichi romani ma purtroppo serve tantissima clay in questo caso ok fermi tutti ho trovato il coal e sta qua cioè quella è casa nostra il coal sta qui ma davvero sul serio così senza cioè ma non c'eravamo già passati qui niente di interessante niente di interessante niente di interessante ho capito niente di interessante troviamo per colla per favore pronto? ragazzi questo è un oh yes oh yes oh yes sti cazzi ragazzi andiamo a prendere il coal oh yeah il coalino mobido vieni qui dove sei? coal eccolo e ci ha dato l'archivement oh yes oh yes ora se io fossi un marcus cron intelligente e non vi ripeto propriamente stupido magari distratto ma non stupido dovrei avere eccolo qua perfetto guardate vi faccio vedere questa questa magia e direte oh bam bam bufalo bim 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 totem base hast signori non era hast 3 era hast per 3 secondi micchia quanto è duro il coal però ragazzi wow andiamo molto più veloce voi ricordate senza? faceva tipo ticchete 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 guardate quanto va guardate tanto piotta e ci dà direttamente il coal alla grande alla grandissima così non devo stare a roppermi le spalle ogni volta con prendi il charcio prendi il legno mettilo dentro al clintino poi polverizzalo poi compattalo cioè che palle yes very good ci dà anche un po' di esperienza tanto morirò 31 di goal niente male davvero niente male se io fossi me stesso come sono e fui probabilmente andrei a fare perché ho finito le mie ladder ah le ladder si mettono dal sopra verso il sotto cioè nel senso puoi puoi buttarle tranquillamente sento degli zombie no no sento degli zombie ok continuo la mia ricerca disperata della clay ottimo direi ah questo vecchio metodo guys questo vecchio metodo era il migliore come gabbare il gioco e penso che nella 1.13 dovrebbero toglierla che peccato allora 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 ho preso la clay ottimo direi ho fatto altri due di questi che mi hanno dato un altro po' di clay ne ho presa tanta effettivamente con quel metodo anche se poi finirà e ho messo il nostro cavallino a fare i blocchi oppela non che ci servano adesso ma ho trovato laggiù dove vedete quel pilastro sulla destra ho trovato dell'acqua un po' più in alto della nostra acqua quindi quando avremo tanti di questi ce li potre ci potremo portare l'acqua dentro casa e questa è una gran 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 figata per adesso invece andiamo a vedere insieme i Chanel Chanel ah sono di porcellena accidenti sono di porcellena non mi dire che devo rifare tutto quel bucio di culo ce ne ho 8 va bene 8 8 va bene 3 e basta portaci vediamo se c'è un altro crafting ci ha sbloccato per fare la porcellana purtroppo no è ancora questo qui e quindi diciamo che vi faccio una versione dimostrativa di quello che avevo in mente perché altrimenti qui i ragazzi si esce fuori mi è sbucato un calderone non chiedetevi perché da dove viene chi è non lo sappiamo però mi serve un altro clay barrel where is my clay barrel sorry ok non c'è ah vuoi vedere che quando si rompe esplode l'avevo fatto inadvertitamente poi si vede che l'ho rotto ed è esplosio male ci fa così eccolo qua lo dobbiamo ovviamente cuoquere molto good e intanto vi faccio vedere quest'altro allora se io se io se lei mi porto qui d'accordo e vado a mettere il mio amico oppela acquedotto so con sicuro so con sicuro che qua sotto aspettate facciamo così facciamo così qui c'è dell'altra acqua ok vabbè praticamente se io dovessi andare a riempire un un contenitore con come questo clay bucket clay coso barrel ok dovrei fare così e poi qui non posso più farlo giusto perché l'acqua è non è infinita d'accordo ma se io invece creo il mio acquedottino che adesso è la versione piccina piccina ma non temete presto diventerà più cicciotto oddio sento dei vostri aiuto babba babba aiuto 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 vieni qui chiudiamo 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 ok tecnicamente dovrei poter prendere questa qua no sapete perché perché sono un pirla perché ne serve un'altra d'acquedotto però ho tutti i materiali per farlo non temete quindi prendiamo questo prendiamo questo oppela andiamo a fare così e così eccoli qua perfetto e andiamo let's go a mettere un altro qui ora in realtà non serviva però era per farvi capire vedete io posso fare così ora se aggiungo questi cicci cicci ok non così ti prego ok mi si rompe perfetto buono posso salire e creare pronto no questo è il tuo passio ah ok stavo rosicando ragazzi stavo totalmente rosicando quindi posso creare questo super vasone di di terracotta con dentro l'acqua e io posso fare così come potete vedere c'ha 8000 10.000 11.000 13.000 14.000 non ho idea di quanto sia effettivamente la 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 cioè nel senso quanto è boh non lo sapremo mai quanto è dentro ma non ci interessa più di tanto quanto lo è lui vediamo un po' ci interessa più di tanto dov'è il livello vi spiego vi spiego meglio usiamo l'andesite per salire ed andare a vedere pronto ok oh ecco qua il livello è fatto ora se io metto questo dovrebbe tecnicamente potermi portare l'acqua ad e qua quello che voglio farvi vedere eh no fate altre tre e un fauslet ok tecnicamente se io faccio questo lavoro ok e metto qui il fauslet e vado di qua a mettere il mio clay bucket con tutte cose ok vediamo un po' i no non ti unisci perché sei una persona orribile ok non si attaccava perché sotto ho messo un extension e non il barrel normale cioè il il coso il contenitore normale sono un po' un pirletto vabbè questo non serve se funziona a vasi comunicanti signori ci siamo ah 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 devo ok unirlo e devo andare a vedere qual è il suo problema posso salire mi potresti dare i buff lei è molto gentile lei perfetto allora qui va girato qui va girato di nuovo ok guys è il momento ok ce ne dovrebbe essere un po' di più ah ma è molto lento sta arrivando oh my god e la domanda è funziona a vasi comunicanti oppure no lo scopriremo soltanto quando sto ciccio si riempirà ovvero fra 7 e 6 però è bello è bellino mi gusta la mangusta non è male ragazzi non funziona a vasi comunicanti cioè funziona che si riempie fino a quando può ovvero fino a quando questo qui non scenderà 1 2 e 3 di livello mamma mia guys ok dobbiamo andare qui ogni tanto a rimpinguare la cisterna a fare così oppela 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 fino a 36.000 ma poi abbiamo l'acqua in casa ovvero io posso mettere questo qui adesso non lo sposto però posso fare ogni volta che mi serve l'acqua che spettacolo e quando avremo abbastanza clay mi porterò l'acquedotto fino qua a caricare uno di questi e a darci l'acquetta dentro che spettacolo incredibile ok ci ho messo tantissimo ma alla fine il sword barcus cron ce l'ha fatta quindi hunting dimension lasciamola perdere il crunchy pile ah è giusto il letto di di cose chi se ne frega che cos'è questo usa dump pipe to pull item out of a block davvero non vedo come possa esservi utile in questo istante e io direi di andare a fare il blood alter per concludere quindi signori ci serve il demonic eccolo qua il rudimentary share voi ricordate l'abbiamo fatto nella sky factory sky factory uguale e che cacchio ne so ragazzotti ah come si ottiene questo l'hash lasciate lasciate che vi spieghi no ragazzi comunque io perdo la roba giuro che l'avevo fatto perché altrimenti non lo saprei praticamente ti basta che metti questo qui dentro cioè lo metti a cuocere e invece ti dà la cenere perché effettivamente se voi mettete il coso dentro al caminetto ve da la cenere ragazzi cioè non è che potete sperare che vi esce qualche altra cosa capito eccola qua ash to ash ciccio to ciccio ora come funziona questa cosa semplicemente andiamo a tirarla addosso a un mostro o a un qualsiasi altro ciccio ciccio lo uccidiamo anche il cavallo mi pare che funzioni allora caro cavallo si fermi un attimo fermi si fermi cavallo cavallo devo devo non si tirava ecco l'ho lisciato già sprecato un tin cavallo si fermi eccolo qua dovrebbe venirgli un effetto particellare non gli è venuto ma la porca di quella ok il cavallo era un test mi sa che non funziona sui mob pacifici bene ok c'è il mob c'è c'è ho sentito il rumore eccolo lo scheletro lo scheletro trombettista è lui oh cazzo oh ragazzi ma sono uscito un attimo di casa ma volete staccarmi vieni vieni trombetta vieni vieni monta al casa ti aspetta 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 eccolo signori uh la diamond wheel ok ce l'abbiamo allora questi qui sono senti io me do bella bella rega oh ma perché non funziona ok funziona ah ah ok possiamo picchiarli da qua quindi hop 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 e adesso gli tiriamo mortacci quanti siete ragazzi vieni qui ma no no non ha funzionato e mo qual è mi sa che devo uccidere li devo uccidere ah no ok facciamo ma non funziona su quello niente vabbè ragazzi se dobbiamo uccidere questi lestofanti mortacci vostra allora è stata una lunga giornata e io sono molto molto soddisfatto del nostro impianto acquifero che cacchio ah ok perché è pieno bello rega bello abbiamo il bronzo l'armatura di bronzo l'acqua dentro casa più o meno eh mi prodicherò per fare tanti water's rain e portarmi l'acquetta direttamente qui un bel flusso d'acqua così magari facciamo facciamo l'orto qua ok per il resto per il resto adesso abbiamo la possibilità di farci il demon halter quindi il blood halter scusate il bronzo che abbiamo qui dentro c'ho di nuovo l'inventario tutto impataccato voglio morire una fornace niente di più facile se avessi la cobblestone e se non la e se non l'avevi no aspetta forse me la son portata bravo marcus cron bravissimo ok ce l'abbiamo e poi 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 la stone che ho qui 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 perfetto ma va via il casino il super casino guys ma va bene lo stesso questo ed altro oh yes abbiamo anche la magia ma quanta roba abbiamo 230 mod ecco quanta roba abbiamo eh signori la blood magic ci si è aperta ci si aprono le porte magiche ma I don't want to eat anymore travi travi l'ess you you can use blood to create apple si si your step up abilities non ho capito le passo odio c'è un creeper la prima volta che ne vedo uno al di fuori del bioma merda oh shit beh ragazzotti io vi sal lustro ci vediamo alla prossima puntata considerate che ci sarò delle cose che non sto cagando che si fanno col bronzo tipo questa qua perché dobbiamo dobbiamo assolutamente scoprire come funziona io non vedo l'ora di avere il mulino dentro cioè il mulino che aziona le cose che figo adesso la forza cavallosa cioè prima o poi la forza cavallosa si toglierà dalle waller così gli animalisti saranno contenti l'ho detto a shift e sarà la pianta del cavallo e ragazzotti potremo finalmente andare un pochino su più il tecnico io vi sal lustro bello per voi ciao la blood magic